E che è successo qua? E che ha successo qua? Ragazzi buongiorno Report una grande trasmissione Report non me la vedo neanche però ci stai scassando il cazzo, stai scassando, meno male che ci sia una società adesso che risponde, e nonostante tutto ci hanno detto aspettiamo l'utenza, noi siamo fiduciosi di aver correttamente operato nel modo che niente, niente se ne fottino proprio, sta dicendo a dare un fangolo, ma poi gli vedi i tassi dritti, chi è che vi diceva in onda, hanno essere a forza qualcuno, qualcuno che ti fa pelindere, perché non si spiega, ma su oggi che mi fa, si è ammaccato lui, qualcuno che ti fa pelindere, buona, ma sei, perché sto ne porto, so, ho fatto già 5-6 trasmissioni con un paio, sei, non una, sei, po' ma, me lo devono spiegare, sei trasmissioni con un paio, vendus, cioè, capisco tutto, però, capisci che non si trova, non si trova come discorso, non si trova proprio, si trova, oh, si trova, ah, stamattina, ci sta sembra la nebbia, però pare una giornata giustissima, una giunzista, oggi che ci sta, Napoli-Cremonese, uaah, il Napoli ci otterrà 5 palloni o sarà stanca fondamentalmente, beh, guarda che dopo Napoli-Giuvendus di solito le squadre hanno sempre perso due o tre partite di fila, o se no, persa una e pareggiate due, occhio, occhio, perché ci potrebbe essere l'effetto Giuvendus, l'effetto Giuvendus, comunque lasciamo assai, lei porta una trasmissione di falliti, una trasmissione di falliti, manca mai l'ho vista, va buona così, Napoli-Cremonese si aveva rimassato, si ci aveva dimostrato, perché siamo proprio a cuccare, sono due ore che mi venga a cuccare, sette ore e mezzo di su, no, bello, e si sta più relax, capisci, e ci mani pari, camminati a pene, rimani che ci sta, la Supercoppa, bella partita, Giuvendus, che dovrebbe, dovremmo vedere Pogba e Flavio che c'è a disposizione, il banchino, venerdì, venerdì, si finisce di faticare e si va a mangiare pesce, purtroppo, dopo una settimana di dieta, purtroppo, venerdì, si mangia pesce, è dietetico, basta che non mi mangio, un fritto, ma l'invitato è mio fratello che sta in giro, ciao io per forza, sabato, non si fa niente, si vede le partite, per poi partire domenica, e si è bere a Giuvendus, a Giuv, buon lavoro a tutti, ciao belli.